Ciao a tutte le amiche e amici di Orchide Mania, io sono Sonia dell'azienda Orchide Bonello. La nostra azienda si trova ad Albinga ed è un'azienda totalmente dedica alla coltivazione di cimbidium da fiore reciso e da pianta fiorita. La nostra azienda nasce grazie alla passione del nonno che durante una festa del papà ha ricevuto in regalo una pianta di cimbidium e negli anni 70 ha deciso di trasformare la sua azienda, allora orticola, in un'azienda produttrice e coltivatrice di orchidee. Da prima vanda e poi susseguirsi fino ad arrivare alla specializzazione di cimbidium. Io e mio fratello siamo la terza generazione che coltiva orchidee, nella frattispecie cimbidium. La nostra azienda è un'azienda che ha fornito fino adesso l'ingrosso, ma da quando siamo entrati io e mio fratello abbiamo incominciato a vendere qualcosina in azienda, se ci venite a trovare vendiamo più che volentieri e parliamo più che volentieri della nostra passione. La nostra azienda è un'azienda che punta molto al futuro, infatti cerchiamo di avere un impatto dell'inquinamento quasi zero, il nostro substrato è un substrato completamente naturale, è composto da torba e corteccia. Abbiamo una centrale a biomassa per il riscaldamento e abbiamo un sistema di recupero delle acque durante l'irrigazione. Questo perché? Perché siamo in una zona in cui il cuneo salino è molto alto e la concentrazione dei nitratti nel terreno sta arrivando a dei livelli molto elevati e quindi nel nostro piccolo cerchiamo di migliorare la situazione. Anche l'imballaggio delle spedizioni è riciclabile, infatti noi utilizziamo soltanto cartone per poter far arrivare il nostro prodotto nelle vostre case. I nostri canali di distribuzione sono prevalentemente, come ho detto, l'ingrosso, ci trovate sulle maggiori piazze italiane, quindi Bergamo, Torino, Mantua, nei mercati floricoli più grossi, pesce e poi ci sono anche i classici mercatini della zona e quindi ci trovate su quasi tutti i mercatini della riviera Ligure tramite i vari grossi ambulanti che vengono a rifornirsi direttamente nella nostra azienda. La nostra azienda ha due metodi per poter avere sempre il prodotto in azienda. O la pianta arriva direttamente tramite meristema da un laboratorio esterno o altrimenti utilizziamo l'autoproduzione. Cosa vuol dire? Durante il periodo in cui le piante sono a riposo, noi le lavoriamo e tiriamo fuori questi retro. Questi retro vengono piantati prevalentemente quando finiamo di lavorare, quindi intorno a giugno, all'interno dello stesso substrato in cui poi le piante continuano la loro vita. Questo retro bulbo viene messo a dimora e nel corso dell'inverno genera un getto. Questo getto è questo qua che praticamente diventerà la pianta futura del cindiglio. Quando noi otteniamo questa piantina per arrivare a una produzione completa trascorre quasi 4-5 anni all'interno delle aziende per poi essere immessa all'interno del mercato. Sono cambiate nel corso del tempo tutte varie regole per poter vendere il nostro prodotto. Infatti la nostra azienda si avvale del passaporto verde. Cosa vuol dire passaporto verde? È un passaporto per cui viene rintracciato in qualunque momento la pianta, da dove è stata prodotta, quali prodotti sono stati utilizzati all'interno dell'azienda. Infatti come ho detto prima la nostra è un'azienda che punta molto all'inquinamento zero, quindi vengono limitati al limite anche i trattamenti all'interno delle piante. Si cerca di ottimizzare il problema utilizzando o animali antagonisti o utilizzando prodotti comunque molto naturali. La pianta starra in cui mi sto trovando in questo momento è una starra che poi fiorisce dal periodo dei morti fino a San Valentino. Infatti in questo momento come potete vedere purtroppo è spoglia, è solamente verde e quindi mi dispiace non potervi far vedere i nostri colori e le nostre produzioni. Cosa dire? Potete venirci a trovare magari verso il periodo di novembre quando questa starra incomincia a fiorire, magari farci qualche parola, qualche discussione su questa passione che ci accomuna. Ci trovate nei canali Instagram, Facebook, sul nostro sito internet. Siamo a disposizione per qualunque domanda, qualunque problema voi possiate avere su questa produzione. Se venite a trovarci in azienda noi siamo sempre nel limite del possibile disponibili perché essendo come ripeto un'azienda familiare abbiamo anche delle famiglie alle spalle che ogni tanto ci impegnano. Però se venite a trovarci ci fate veramente piacere così magari possiamo fare due parole e scambiarci qualche curiosità su queste specie e perché no? Potete venire a trovarci e ci vediamo presto allora. Un saluto a tutti, ciao! Ciao! Grazie a tutti.